buonasera amiche buonasera amici sono diventata nonna nonna di mirtillo poi vi spiegherò oggi mia figlia mi ha dato la dieta notizia ma me lo sentivo che qualcosa c'era nell'aria domani arriva invece non si sa ancora se cina o cicina ma questa dal bisnonno quindi new entry in casa dei simoni galantini allora cosa abbiamo combinato questa mattina lo saprete dal video lo sapete già o lo saprete insomma devo caricare un video mi è arrivato questa rivista in quel di viterbo bene allora la sfogliamo insieme io ho già guardato ma guardate che bei colori c'è il giallo c'è il blu l'azzurro c'è anche il rugido ma ci siamo altri colori ecco iniziare l'autunno così io lo inizio così l'autunno non lo inizio con il vero che mi sono già avvicinata il color zucca ecco qua ve lo faccio vedere bene mi è anche venuto in mente già due idee due idee per ben impiegare questo materiale che ce l'ho lì da un po che mi dispiace perché è bello ciancicare questa matassa è un filato credo americano fatemi un po' vedere made in che cosa sei tu made in peru vabbè comunque america stati uniti non è che il peru solo gli stati uniti sono l'america l'america gli stati uniti sono tutta l'america gli stati uniti sono gli stati uniti poi nel continente americano ce n'è da roba quindi vi piace ve l'avevo già fatta vedere l'etichetta ve la faccio rivedere questo era il suo prezzo un po di anni fa io l'ho pagata meno quando uno dice quanto costano i materiali se sono delle esperienze si può anche investire in banalità no questo era il suo prezzo questa è l'etichetta io me le raggiudicate queste tre matasse a un buonissimo prezzo all'epoca quando la cinzia un beliero organizzava le adesso così almeno vedete che cos'è prendete una vista si dice quando organizzava le aste sul suo canale facebook c'era una una prima visione poi l'appuntamento e poi a sorpresa pronto iniziava ora una cosa ora l'altra mi sono divertita un sacco mi sono presa un sacco di bella roba allora grazie alla rivista mi sono venute idee che lì per lì manco ci avevo pensato cosa serve una rivista a quello a elaborare idee oltre che a copiare quando ci torna comodo conoscere i filati che ancora non conosciamo andare a vedere se li abbiamo nei pressi di casa se no ce li ordiniamo online e a me ci ciao oppure facciamo una gita vedi che dovevo dire sì e devo dire di sì alla mia amica lieva e andremo a roma insieme probabilmente a ottobre verso metà ottobre noi facciamo una gita per andare a vedere un negozio per andare a far visita un negozio di filati poi per strada meno male che cammina ecco una donna che cammina tanto per roma di salite se no qualche salita ce l'abbiamo anche a roma devo dire la verità qualche salitella c'è anche a roma sui colli di qua i colli di là però non vedo l'ora so già dove andare a mangiare se per quello no a parte che ho fatto organizzata perché noi avevamo un punto di riferimento in piazza san silvestro cioè nei pressi adesso bisogna vedere dove si è spostata quella dall'agnese va buono lo sfogliamo lo sfogliamo ma prenditi una pizza in cesto oh io sono senza glutine adesso vorrei non far danni questa mattina però ho glutinizzato una volta al mese basta basta ho glutinizzato stamattina poco pochissimo ecco rispetto a tanti oh sono felice della mia mattinata due ore ci siamo state a Viterbo no forse un po' di più sono partita alle 12 meno 5 da casa meno 6 meno 8 meno 7 l'ho presa al volo comunque perché la mia cara doveva ancora fare pipì e cacca giustamente io ho corso per non perdere l'autobus con la cacca penzolosa oh santa cacca con questi animaletti e siamo state siamo tornate alle due un quarto avevo l'autobus siamo state anche al parco vabbè ma poi ve lo dico dopo lo saprete già avete già visto cominciamo con questo questo gilet quanto mi piacciono i gilet quanto mi piace questo colore allora un colore così ah mi piace perché mi può creare continuità con il sotto ho visto due io non compro mai vestiti come te vesti lasciate per però ho visto due cose a Viterbo questa mattina che me le voglio proprio prendere ecco e pensando a quelle due cose che ho visto a Viterbo questo bordo così beige non è beige perché il beige è un po' noccioletto questo è un nocciola gelata alla nocciola mi piace perché ci vedo sotto il calzone uguale sul nero mi piace sta bene ma mi piace spezzare Camilla dice che a me piace vestirmi a matita e ha ragione a parte che oggi ho uno spezzato ho la mia camicetta preferita senza maniche con i calzoni neri di lino che questa camicia qua mi sta ganzissima anche con i calzoni con i calzoni nocciola senape infatti la metto e anche con quelli verdoni la metto con tutti i tre i pantaloni sembra sempre diverso l'abbinamento ma piacca ecco ok quindi questo bordo può creare continuità col sotto un bel pantalone di velluto mille righe una bella gonelina anche il tweed ma guardate che bello poi l'evoluzione dei colori questo è un filato come se pronuncia tutta sta lavoro qua va bene mi piace mi piace il gelare mi piace mi piace anche la camicia io le porto così da sempre le camicie fuori dai calzoni anche perché almeno coprono le panze ci sono un sacco di cose belle non vi faccio vedere l'anticipo se no ci togliamo il piacere allora cominciamo con i toni del legno i colori del legno delle foglie secche ma del legno guardate che bella bursatina ecco questa qua che è simile shopper io non amo le borse da signora ciò di quelle borse che sono delle robe allora ho le mille tasche adesso poi resumo anche la mia borsa porta lavoro che mi hanno regalato le ragazze da etimo che mi è tanto comoda con tutta la roba che mi porto a dedare però sono queste borse informali non sono quelle borse come si chiama quella che piace a camilla aspettate un po' donna del corso là no che madre oh santa pace io ho ancora questa borsa da portare ad aggiustare dal calzolaio che non mi ricordo mai come si chiama bellina per carità però sono quelle borse che dico oddio se mi si rovina ecco e allora io che ho gli animali caccio di qui caccio di li poso li poso la questa mi piace questa lei è carina perché è una shopper va buono mi piacciono queste cose sì guardate mi piace anche il treccione che sì il simil treccione che abbiamo sul davanti mi piace la spalla ascesa e mi piace anche questa manica che vedo delle robe strane qua ho visto di quegli errorini qui in giro mi piace il calzone di lei anche se io chiaro così non lo metterò mai di inverno col cane sì che viaggio con le pezzette ho un asciugamanino in microfibra colorato perché Minou quando me la metto sulle gambe io che ho le salviette non c'ho più roba parto con di quei pesi perché non gli volete fare un bidet per strada che me la mettete in braccio così e quindi le zampine e il panno sulle gambe a volte se proprio proprio dico a me i calzoni poi li lavo dipendere da quello che ho perché questi calzoni qua puoi dire poi li lavo ogni tre per due tra l'altro sta pure bene nonostante questo colorino di capelli con questo coloretto qua è la ragassa lui ha un bel calzone tweed una camicia che mi fa un po' impressione di questo colore un po' così ma il golf il cardigan lo trovo bellissimo mi è venuto in mente anche come lo potrei fare perché ho un'alpaca meravigliosa alpaca e lana o alpaca sola no dovrebbe essere alpaca sola o alpaca con un po' di lana inizio a perdere dei colpi perché una volta avevo un come si dice ho fatto un inventario in testa guardate mi ricordavo qualsiasi cosa anche che ho avuto dieci anni prima adesso inizio a perdere un po' i colpi lui lo trovo bellissimo già questa rivista merita con l'antre già per questo cardigan da uomo questo motivo mi piace un sacco è un punto brioche che cos'è non lo so ma è bello lo faresti mi impegnerei certo mi sento male arrivare fino in cima però sono bellissimi questi filati ci dici con cosa? no non ce lo dice non ce l'ha detto vediamo poi eh burda maglia oh ce lo fanno rivedere meglio qua ci dicono della lang di lang della lang di lang camicia eterna pantaloni soliver eh ma gli fa un effetto la camicia qua fa l'effetto panzetta che lui magari manco ce l'ha che bei capelli che c'ha sto ragazzo e il calzone che gli è largo in vita senza cintura con la camicia che fa panzetta mi fai tristezza sei roscio naturale vedo la barba che bello che bei capelli sto ragazzo sto uomo ragazzo vabbè perché sono vecchia dico ragazzo mia nonna diceva giovanotto magari al figlio dell'amica che aveva 75 anni quindi oh cardigan sportivo lana in misto lana merino e yak yak filato si chiama yak distribuito in Italia da mezz cucirini italy srl www.mezz cucirini punto it bellissimo bellissimo questo cardigan è mio io uomo in capita uomo cosa ci posso fare oh qui invece lei che cosa guardate come gli sta bene come le sta bene sto colore che è un po' zucca anche lui è un colore strano caldo è un arancio è un occiolo arancio rosato quasi tiziano come i suoi capelli pool maxi treccia lana grossa si chiama filato alta moda cashmere ci dici se se è puro non credo che contiene anche una percentuale di cashmere ferri 8 ma si chiama alta moda cashmere magari c'è un 5% il resto sarà lana sarà lana viscosa sarà lana viscosa acrilico con un pizzico di cashmere non lo so il filato è bello mi piace anche il suo melange il suo movimento nella torsione bellissimo allora questa specie di treccia vedete che bello che ha questi questo passaggio in diagonale che crea quasi un effetto grana di riso guardate come è diverso sotto da sopra è stranissimo vabbè più che isolato davanti me lo metterei me ne metterei per fare tutto così ho alternato a costa lei è bella bellissima ho ancora questo filato il colore sembrerebbe lo stesso allora venite qua questi mi sa che sono pezzi cuciti qui abbiamo un raglan allungato c'è un difetto chissà se la mia amica oh non mi viene il nome lei si è capita forza trieste oh aiutami c'ho un'amnesia non mi viene non mi viene manco dico che ce l'ho lì non mi viene proprio c'ho un buio però mi ricordo oh amica mia bella guarda un po' qua sotto che lavoro ma non è questo ce n'è uno che è peggio no tu non sei quello qua sotto c'è qualcosa che non quadra la manica non è cucita però ha dei punti strani potrebbe essere anche la lana che magari è un po' più strizzettata da una parte e un po' più dall'altra che fa questo effetto mosso non è male mi piace il raglan così allungato bellissimo con la spalla un po' martello guardate che bello l'effetto della treccia al polsino che granza sta scatola con il laccio di cuoio la vecchia cintura perché c'è una fibbia ci andresti in giro così Lorenza non lo so se dovesse capitare che ne ho bisogno non è molto comodo viaggiare così insomma ci dovrei avere un bel progetto da proteggere dentro e allora magari carino sta carino anche che strana sta ragazza che sta bene con questi colori bellissimo allora qua ce lo vediamo un po' meglio mi piace questo colore ma guardate com'è bella questo effetto di mazzetti di coste strozzati che brutto termine strozzati mamma piazza lui è blusa ma non si vede filato portobello notte ragazza vedenziati particolare color carnel misto cotone lana e poliacrilico oh santa pace i poliacrilici mi fanno morire allora oh questo cardigan guarda che mi piacciono le sue scarpe a me piacciono le scarpe così però ho un problema di vecchiaia di artrosi ai piedi e se non ho la pianta come dico io sotto anche se sono larghe così mi fa un male mi parte una fitta al centro del piede che mi fa piangere dopo un po' cammino tenendo i piedi piatti perché ho i dolori e ho sempre gli stessi stivali perché lì ormai ci sto potrei portarli anche a letto con gli stivali questo cardigan questo cappotto è bellissimo ma adesso ve lo faccio vedere ha dei particolari nella manica a parte che mi piacciono queste costine guarda che bei capelli che c'è sta benissimo mi piace questo colore l'arancio zucca mi piace tanto mi piace proprio tanto anche i suoi calzini sono carini tutto questo ensemble morbido i calzoni morbidi lo vedete qua com'è bella questa spalla la spalla con queste coste in diagonale guardate la manica lo so è un manicone però mi piacciono così perché poi è tutto dello stesso peso mi dà fastidio quando non sono bilanciati i pesi quando per l'estetica si va a mettere i pesi dove poi dà fastidio e mancano poi le consistenze i tepori dove servono quindi me ne frego assai dell'estetica del modello strano se poi non ho l'agio che chiedo non so se avete visto la collezione Max Mara o Max Mara Weekend non so ci sono dei golf adesso va sta cosa che devi avere la manica lunga il mezzo collo alto e poi tutta la spalla all'americana e tutto il braccio nudo mi spiegate la ragione come ci si può stare a proprio agio con tutto sto snudamento da una parte poi cosa ti metti di lì lì ti metti una spalla come no grazie se ho bisogno di una manica lunga da una parte il braccio che non ce l'ha non può sentirsi a suo agio manco se sto a teatro guardate o mi dà fastidio la manica e quindi me la rotolerei se sto bene dall'altra parte oppure dall'altra parte piange il cuore comunque questo cappotto lo trovo bellissimo anche il suo calzone e le sue scarpe mi piace tutto quello così ti ci vestiresti certo che sì mi piacciono da morire questi due colori ma con i miei capelli blu come lo vedete perché insisto con il blu viola oh allora guardiamo anche il capo suo che tanto che filato è l'abbiamo detto avevamo detto allora lui è il nono l'avevo detto è un mohair lux lax lax lux lax lax mi viene in mente una roba per andare al bar allora tu cosa ci dici di questo filato inglese maglia rasata rovescia il nome di una calda miscela di kit mohair e seta ci piace ecco vedete le borse così classiche sono belle ma è bellissimo questo cappotto e il golf di lui guardate allora tutto questo questa manica operata che è bellissimo questo punto ecco con questo effetto che sembrerebbe quasi la finta costa inglese e mi piace tantissimo ecco lui così mi sembra un insetto mi fa paura questo punto questa cosa qua mi fa paura allora se ce l'avessi solo nella parte anteriore magari anche posteriore ma va bene anche solo anteriore in un golf non mi darebbe fastidio ma visto tutto tondo in una manica quindi un tubo con questo mi fa paura davvero mi fa impressione il filato di lui è bello ora li vediamo mi piace che ce lo fanno rivedere allora qui vediamo una cosa diversa perché è un altro cappotto che è bellissimo anche lui oh quei toccati lì andateci a Viterbo con questi tappeti anche a Roma voglio vedere quanto vi durano allora bisogna essere magrissime perché poi sotto qualcosa te che devi ma la cintura è bellissima io mi sento giallo mino michelin così però è bello la metteressi se avessi il fisico sì mi devo sentire a mio agio comunque al di là che me ne posso strafregare delle mie curve perché poi ho le spalle abbastanza strette anche se ho le braccia finalmente un po' più cicciotelle ma mi piace mi piace il golfettone però ecco mi devo sentire a mio agio mi devo sentire strizzata nei vestiti ma manco d'estate e manco d'inverno lui così e guardate è bellissimo è proprio bello ma bella questa manica ma come bella la spalla così col treccione bello il filato deve essere bello maxi cappotto è un investimento sto cappotto una pelliccia non serve fatevi sto cappotto che è uguale se volevate l'ebrezza di una bella bottle allora il filato è il big wool cosa sei che brevi filato grosso per i 9 10 allora non bisogna avere la manolasca neanche strizzettosa perché un cappotto se no poi ve lo trovate con lo strascico come lei di Diana lei di Diana quando si è sposata insomma bisogna stare attenti con le tensioni con i cappotti e i filati devono essere fatti bene perché se slittano le fibre ciao uh ho una mosca che se un po' me la mangio non ci dice niente riguardo il big wool che cosa sei non ce lo dici ha cappotto in lana no una trama una trama vabbè qui vediamo il golf il golf mi piace mi piace ma non così non lo mi darebbe fastidio se ce l'avessi davanti anche solo a guardarlo non lo potrei fare non lo posso fare non lo potrei indossare ma non lo potrei neanche regalare vendere ebbè se me lo ordino non lo faccio mamma che paura oh come sono belli i mocassini comunque un po' stile college fa tempo meglio oh bello il cappotto per terra giusto perché ti ci hanno lavato bionda perché non l'hai pagato se no non ce lo metti per terra dove ci hanno sputato e fatto la pipì la cacca guardate com'è bello anche il calzino stanno benissimo ma come sta carino lui col cappello così non c'è male il cappello oh qui abbiamo una finta mantella ecco quando è così lunga è odioso perché non sai dove mettere tutta sta sciuffelenta tipo sciarpa rombi e rombini una pantagonna non si capisce ti sta male sta male a te figurati a me guardate che brutto sedere che le fa no mamma mia ma ci sta comoda dentro sto coso ste scarpe strette figurate io c'ho la pianta larga il piede tozzo il collo del piede alto fate che tiro le punte che manco la fracci eh eh sì eh però ecco il mio piede deformerebbe subito sto lo sapete quando già c'è gli sivalli le scarpe di camoscio con i miei piedi così a punta che poi si vede la punta vuota e poi mamma mia da buttarvi a tempo poco la giacca sua mi piace da morire bellissima questa giacca bella bellissima cosa ci dici al riguardo giacca comma pantaculotte ma si può andare in giro sono orrendi questi pantaloni orrendi che magari si attaccano uuuuh che poi che freddo no un accessorio originale ma ci dici la lana per piacere eh non è il collo dietro vabbè mmm arombi non ci dici niente merino super ah filato merino superiore ma di chi boh non si sa mi sono persa un particolare va bene oh lui mi piace da morire ecco questo non mi sa di insetto mi piace questo bicolore con un filato così peloso così melangiato con queste tonalità dove sopra potete sparare la qualunque qualunque colore vivace e poi ci abbiamo il velluto sotto io amo il velluto ho delle stoffe messe via che le devo proprio adoperare è un peccato che siano lì Austerman o Osterman Austerman Austerman no si dovrebbe pronunciare aiutatemi un po' ehm Bermuda Gang bu vabbè non vi sto a leggere con la mia pronuncia terrificante eh tre pallini su cinque pur la nido d'appe non è un nido d'appe è un effetto cellette ma nido d'appe non è una speciale leggerezza salta il filato in alta cammista a cotone il collo alto a coste come i polsini è leggermente spostato ecco così mi piacciono così mi piacciono proprio tanto non mi fa empatire bellissima questa foto oh lo vediamo anche di qua allora sti braghetti li vorrei più larghi perché così non mi stanno bene io ho bisogno che stacchino dal fianco poi c'ho la vita stretta ho le caviglie magre ho il piede tozzo adesso dico i polpacci da chi ha pedalato un sacco bellissimo questo golf in questi colori è bello sta bene un po' a tutti questo colore smussa un po' i toni violacei di chi ha l'accuperoso la rosacea l'acne tutto un po' oh anche lui mi piace di stivali no fanno troppo mamma mia no no fanno molto cugini di campagna con sta caussetta che esce fuori così è di una tristezza infinita o non si vede o è una calzamaglia è bruttissimo che brutto guardate un po' che bello questo tricot gigante con una bella catenella sotto che bello allora la camicetta è bellissima i bottoni sono bellissimi il golf mi piace un sacco proprio per il viola vicino al volto ecco questo punto di viola lo stesso smorza i toni quelli un po' troppo rossi del volto dà luce ai beige mi piace mi piacciono proprio questi colori poi vicino è sempre mettere un colore più scuro bello bellissimo questa ansambla mi piace il cappello a vaso a porta fiori però vabbè a cash po' mi manca il coperchio un bel cash po' no è bellissimo guardate che bello anche se il polso così che tiene freddo non fa passare il freddo mi piace anche la gonna con che sembra quasi un portafoglio questo cannone bellissima certo così sta bene anche i fianchi stretti ci sono queste queste forme un po' non so come si chiamano dove si ha il busto magari un po' più tozzetto e i fianchi stretti oppure queste snelle come era Lady Diana che aveva un punto vita non accentuatissimo ma ce l'aveva queste gambe lunghe questi fianchi stretti che le ho sempre desiderate quando ero piccola che ho sempre avuto la forma proprio mediterranea poi va bene così magari tornarci a quei 52 kg quando mi sentivo grassa arrivavo a 55 oh mamma mia bellissimo questo melange questo sfumato c'è di tutto qua dentro c'è sia il melange che il tinto in stampa sarà tinto in stampa questo mi sembra quasi un soffiato effetto rilievo ecco bellissimo anche il collo mi fa venire un po' ma mi piace questo volume mi piace il collo alto la camilla non lo porta i capelli nel collo divento pazza proprio pazza quei capelli accostati al collo bloccati così guardate che bella questa cosa io chiamo le gonne quest'anno voglio una gonna nuova va bene pantaloni non ve lo dico filato e cosa sei cosa ci dice non ci dice niente melange dei toni pastello vi ricordo che quando vedete delle sfumature o dei cambi colore quello non vuol dire melange poi ne riparliamo delle definizioni oh qui abbiamo uno scaldacollo effetto cagul o camino che dir si voglia che si usa anche come copricapo così l'è triste no così è nemeciasa no questo effetto così è nemeciasa così lo trovo bello adoro i volti femminili che stanno bene col fulare in testa io impazzivo a vedere il tipo Grace Kelly col fulare se me lo metto io sembro non ve lo dico perché non vorrei sorprendere se qualcuno oh mi non compro vivere la casa mica peraltro perché voglio vedere come sono vestiti questi bimbetti la casa a me piacciono le case mi piacciono le case che si lasciano così che lanciano delle idee perché dicono io voglio rimanere così come questa casa a me mi ha detto non mi sconvolgere e io ce l'ho lasciata l'ho messo di mio vabbè per forza c'è la mia roba però non l'ho stravolta oh li volevate gli sproni tondi guardate un po' qua che bella panoramica che vi mostro intanto dei bei calzoni li voglio i calzoni a coste larghi oh vi ricordo che il calzone di cotone se è velluto il velluto è invernale no il velluto se è in cotone tanto tanto di seta guardate ma se è cotone è cotone non protegge il cotone dal freddo il velluto quello è quindi sotto cosa ci va una bella calza maglia quando fa freddo oh perché ripeto il calzone di cotone come una gonna di cotone di velluto di cotone se siamo se fa freddo fa freddo perché mi viene da ridere un architetto che appena sceso in Russia non mi ricordo dove ci ha lasciato le scarte perché non ha considerato a parte lo sbalzo di temperatura ma le temperature in inverno parecchio e di che tinta sotto lo zero ci è andata con la scarpetta adesso non vi dico la marca inizia per T e finisce per S e ce l'ha lasciata l'hanno dovuta accompagnare al Dauti Free a comprarsi subito delle scarpe inverno con la sua ala adatta e con i pantaloni di cotone di velluto sono morto dal freddo a te che credo sotto zero infatti sulla neve ci andiamo a sciare noi meno 20 ho provato meno 25 fra un po' ce ne vengo secca ma l'ho provato a Montecampione con i calzoni di cotone senza il sole poi non si scia i bravi che non cascano possono sciare anche mutande quasi ma ci andiamo con le tute imbottite anche se facciamo un movimento oppure no ecco io sarei morta da ridere è bello che lo raccontava senza rendersi conto da aver fatto uno si mette a ridere lì sono stato tonto non ci ho pensato succede no proprio che non si dava che strano cioè dico ma ma è bello che è un architetto che arreda le case poi ho santa pace e voi dovete guardare le persone senza far leggere nei vostri occhi che te è proprio un bel inonzo di saspetto e te lo ridici anche vergogna oh quindi vabbè adesso in autunno con le temperature ma anche magari a 10 gradi a 5 gradi io a 5 gradi ho le calze maglia sotto ai calzoni di velluto ma i golf sono bellissimi ecco invece quel gessato non ci vado d'accordo mi hanno regalato una giaca gessata una delle mie sorelle non la metto perché magari non mi è ancora venuta non lo so non mi attira il gessato cosa ci devo fare qua mi piace che abbiamo un melange blu viola mi piace questo motivo sono comodi a giro collo perché poi i colli li mettiamo sopra i maglioni con dei colli importanti già cuciti diventano impegnativi perché poi magari c'è la giornata dove si sta bene con il golf ma il collo ci affoga dove te lo metti il collo te lo devi tenere invece sono più propensa a fare il giro collo comunque dei golf che non hanno dei colli particolarmente importanti proprio perché abbiamo la possibilità di mettere sciarpa o scaldacollo cagul quello che volete e siamo più liberi sono meno impegnativi bellissimo guardate questo questo passaggio di vabbè dal giro collo o questo effetto a stallattici e stalagmiti e poi gli scacchetti e gli omini e beh e i rombetti no cosa sono questi qua i rombetti carino queste mi sembrano le lischette o fiorellini dischefiori e poi questo carino tutti i rombetti con questi bottonati e queste tonalità mi piacciono sì sì mi prendo un occhio bellissimo che belle le sue scarpe quelle di prima e anche i calzini oh le calzine queste qua mi piacciono da morire oh andiamo a vedere non ci dicono ancora qualcosa se le cazzo tanto è mio oh è un piacere guardate che bellini questa è una nassa potrebbe essere una nassa lunga per essere una nassa come sta bene con la coppola questo signore bei calzoni anche questo signore sta bene un po' di colore non sarebbe male dove sarà sto posto boh i suoi calzoni li voglio io adoro i calzoni larghi e le gonne e pantaloni le gonne e pantaloni guardate ci sono avute di quelle bellissime che non ho più bello bello questo non è peloso questo lo vediamo peloso vediamo l'apaluso l'apaluso eh i pantaloni non sono brutti però non lo so perché mi fa un po' così il gessato ecco già questo colore sul gessato non mi ci piace non mi piacciono queste due cose messe insieme anche no no ma il golf è molto carino è carino carino vedete c'è una faccetta simpatica aspetta come me oggi allora il pullover da uomo abbiamo i pantaloni e i mocassini a parte le scarpe 10 euro pantaloni e i mocassini e ce ne è ma lo vado a comprare me li vado a comprare allora poi lei boccassini pantaloni gant i suoi costeranno un occhio e questa signora pantaloni body flirt filato the baby wool di where we are we are the wool questo vedete rowan il golf di lei oh il suo golf è rowan io sono sempre più innamorata sarà anche un marchio commerciale mica vi dico che non più tutta nel mondo però ha una gamma di prodotti che amo oh guardate un po' gli scoiattoli quanti ce ne sono già di progetti a sprone tondo qua avete visto ci sono già quattro se non mi sono persa qualcosa è bellissimo questo insieme bellissimo questo color quasi carmello carmello salato no è bellissimo carmello biondo bello il pantalone è bello il golf bellissimo che filato è novità o novità novità boh filato Icelandic wool design Nina Moritz no vabbè pantaloni non si possono dire è impronunciabile bellissimo guardate che belli gli scoiattolini è un amore Icelandic wool scusatemi ma cioè di chi che sei vabbè poi ce lo dicono allora siamo in una bella marina ma guardate un po' quanta è carina questa cappetta questo poncetto con il baschetto mi ho preso a Parigi dove sarà chissà chi lo sa è un viola così mi era pure stretto erano tutti stretti i baschi a Parigi come c'hanno le teste le parigine facciamo pure i capelli boh non lo so vorrei tutto questo ensemble gli stivali rosa i calzoni di velluto quanto velluto tanto che lo chiedo il velluto meno male che arriva e questo è elegantissimo guardate com'è bello questo insieme di colori da questo rosa quasi carne a questo scusatemi non mi da retta sono le 6 6 meno un quarto di già guardate quant'è carina proprio bellina Icelandic Wall novità o novità non c'è l'accento ma l'accento nello stampatello maiuscolo non si mette mantella jacquard è bellissimo blusa eter stivale di gomma hunter che costeranno l'ira di dio ma che belli oh qui abbiamo delle scarpe improponibili sto si duro che ci inciamperei ecco gli elasticini ho dei calzoni bianchi che mi stanno anche bene ma sono stretti in fondo con i lacci non l'ho mai messi quest'estate invece vedo con i lacci un golfino tutto operato bello questo insieme che sembra quasi primaverile bellissimo questa pagina è bellissima filato quello lì e pantaloni e i cenem pensate che ce l'ho anche comodo i cenem non ci entro mai solo quando viene Camilla ogni tanto ci buttiamo l'occhio carino golfino carino carino dai carino mi piacciono mi piacciono le proporzioni tra i motivi che me lo fa carino è quello parliamo di questa cosa qua allora è un po' come il braccio e la spalla completamente nudi poi magari dopo c'è anche il collo alto no? la gonna è interessante mi piace questo taglio lo trovo bellissima a parte che se apre è come dire una gonna cortissima la scarpa oro così a punta col piede nudo già mi fa male il tallone il calcane questo capo tutta nuda così che ti entra al freddo ma mi dici quando? una sera a teatro ci devi andare per forza con la buzza nuda non lo so come ci si può stare a proprio agio così i nudi a contatto si arrivo resta ma anche no ma no no filato lang filato zen guardate tutto bello vaporoso a meno avessero realizzato un sotto anche se trasparente però con un filo sottilissimo di kid silk sono accidente così ci puoi mettere quello che vuoi sotto sì ma non capisco l'utilità non mi piace perché non è razionale io a volte la sono non sembra ma la sono oh questa sciarpetta è carina pensare poi ve lo faccio vedere questo filato quello che amavamo il filato lecca lecca era lana e viscosa l'avevo tenuto nel cestino non sapete quanto tempo non lo sopportavo perché l'avevo comprato non lo so poi mi sono venute le idee dico guarda che scema ci voleva le idee e ce le ho fatte avevo fatto una linea per bambini con i mezzi guanti e i berretti era venuta bellissima ecco l'avevo aggiunto nei pomponi lui è bellissimo l'insieme che non ne sono gli stessi filati o sì strizzettati forse sì 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 allora sciarpa con frange vabbè le frange sono corte sapete che io non amo le frange riportate perché già me le trovo a telaio a telaio e questo motivo l'ho lavorato l'ho già realizzato tempo fa mi piacciono questi colori che non sono per niente non portano il freddo cioè non rattristano non fanno pensare oddio adesso arriva le giornate buie cambierà l'ora legale è carino anche lui lo spolverino questo copri ha un vestitino un chemisier questo chemisier senza con le maniche corte al gomito è sotto un dolce vita che mi fa schifo proprio il pensiero del dolce vita però lì sotto non ci sta male no io non amo il dolce vita lo volevate il triangolo oh guardatelo qua è proprio carino come si distribuisce il colore qui avete una costa diversa vi ricordate il progetto che vi ho spiegato poco tempo fa quello che io poi faccio sempre perché mi è veloce me lo gestisco bene insomma ecco qui avete una parte centrale diversa ma c'ha i buchini io non li voglio i buchini non c'ho una voglia più di buchini nel mezzo quando faccio il legazzo guardate che bel berettino col bordo altino e cuoricilla su in cima e poi c'è questa maglietta che non so se è la maglietta no è una maglietta no beretto con cuori pantaloni zara che li vediamo noi i pantaloni no vediamo un robo che potevano essere anche le mutande di sua nonna filato kind con la balì di knit gang 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 tutti questi colori pastello non sono carini per l'autunno allora sto cintolino no non lo accendiamo almeno per me ma il cardiganino spolverino che può diventare anche un capottino mi piace tanto come hanno gestito il collo ma tanto mi piace ecco così è già più carino allora fatto a doppio petto fatto già subito a doppio petto sì carino questo ensemble è elegante molto oh abbiamo la boy girl qua con dei fuso che non si possono vedere carini hanno un motivo carino li sopporto perché vabbè no è una calzamaglia no non si capisce no boh hanno all'ombra sì è una calzamaglia qui abbiamo una gonna corta vabbè una bella camicetta un po' di golfino che è un non è una bouclé questa anche se magari la chiameranno bouclé questa non è una bouclé sono adesso andiamo nel mondo alpaca quindi andiamo oh ma sono belli io li ho abbracciati gli alpaca tanti anni fa è carino questo golfino molto carino bel colorino è un misto alpaca vediamo un po' avevo lette da qualche parte anche questo mi piace mi piace il collettino a punta e mi piace anche questo jeans con i tasconi se fosse un po' più largo è carino è carino allora i jeans sono di replay ho un giubbotto che fa è un pezzo buffo di tanti anni fa ma è di un bello è un giubbotto stile avviatore è un po' che non lo metto non lo mollo a nessuno guardate c'è una vendimelo ma non ci pensare neanche quanto l'ho goduto quel giubbotto ogni tanto lo tiro fuori è proprio bellino replay mi è piaciuto tanto negli anni 2000 2010 dal 2000 a 2010 replay ha fatto cose che mi sono piaciute da morire poi l'ho perso di vista carino questo golfino mi piace il filato è bo fashion skinny alpaca aram rico design è proprio carino guardate con le stringhette che possono essere insomma molto americane ma anche molto nordiche nostre anche anche in Baviera mettono un robo al collo queste cosettine al collo carino qui abbiamo un maxipool questo arancio carino qua beccodocca no non è proprio beccodocca lang misto alpaca sì perché è tutto dedicato all'alpaca però oh qui abbiamo una fascia oh mamma questi cosi così anni 80 va bene molto country bella questa treccia qua sulla fascia e poi abbiamo ecco anche questo questo motivo a seconda di come mi compare perché qui abbiamo anche un motivo un po' spirale mi fa venire quelli che noi chiamiamo i mile zampe quegli insetti che sembrano delle lische che corrono mi fanno una paura boia gli spiaccico dove si trovano si trovano e urlo ecco io non vado d'accordo con gli insetti con i ragni con gli insetti anche no è un filato che cede un pochetto questo non è un filato nervoso corposo d'ora grossa filato setasuri big non lo so se ci avrei fatto un motivo così vabbè mi fa paura anche questo ho le mie fisse questi pantaloni sono ready la camicia di jeans più bottino buffo la sciarpa è molto carina simpaticissima questo insieme di colori mi piacciono da morire proprio perché c'è questo punto di blu di azzurro in mezzo a questi colori la trovo bellissima ma bella da morire proprio ne farei proprio una sciarpa perché la sciarpa ha un suo perché un golfo con questi colori non lo so ma lei è proprio bella è proprio bella da averla nell'armadio cosa ti metti la sciarpa come la vogliamo chiamare boh è bella zebea lana grossa setasoli big oh qui abbiamo gli alpaca orsetti io le ho vestiti dosati sono buffi con la testa così bellissimo questo motivo che lancia flashate di colore di un mare bianco un po' sottili sottili mi piace mi piace è sempre questo questo è un filato lanalpa allora lanalpaco lanalpaco mamma mia di ste parole fine tweed di shulana bellissimo è carino vedete ha un raglan un collo un po' largo sarà fatto con i feri circolari oppure no chissà chi lo sa cosa c'ha sta roba anche delle inclusioni non lo so delle robe buffe e poi abbiamo i calzoni così che li voglio filato lana grossa alpaca pelo natural alpaca ma sarei pura chissà chi lo sa salopetto e blusa i pantaloni sono quelli di prima allora carino vedete queste cosette un po' così il cardigan è carino è carino ma come sono buffi questi colori così acquarello così lividi oh non abbiamo i prezzi però abbiamo i gomitoli ci ricordano dove sono stati impiegati ne vediamo un po' l'andamento mi piace da morire questo azzurro mi piacciono tutti li useresti tutti certo che li userei allora vediamo un po' l'analpaco l'analpaco fine è 63 cotone 20 lana vergine 14 alpaca e 3 poliestere va bene questo che sembra un soffiato nell'ultimo cardigan che abbiamo visto 31 alpaca baby alp no aspettate 63 cotone 31 baby alpaca 6 lana merino è carino questo questo azzurro 48 alpaca 25 lana vergine 20 poliamide 7 viscosa interessante questo giallo strano allora abbiamo 63 alpaca 37 poliamide e lui secondo me è un soffiato garzato 7 suri qua 70 alpaca suri i suri sono diversi gli alpaca suri fino a poco tempo fa erano il 6 sono arrivate al 6% di tutti gli alpaca presenti nel mondo è una fibra dolcissima delicatissima vaporosissima la troviamo infilati molto sottili non è non assomiglia al moer e forse forse all'alpaca braced li fanno spazzolati bello il cuore nocciola quasi quindi questo è 48 alpaca 25 lana vergine 20 poliamide 7 viscosa questo sì questo secondo me è un soffiato bene siete contenti vediamo cosa c'è ancora qua dietro c'è l'amica che usa i bottoncini per fare bigliettini ricordo regalini guardate questo mi piace perché non tutti i bottoncini attaccati possono avere un loro perché per me riguarda il mio gusto mica è legge loro mi piacciono questi fiorellini qua che sono un po' come le paillette fiorellini con i dischetti di paillette sono carini così per un adulta non lo so una bambina la farei felice sempre un colore livido su un colore improbabile non mi piace questo abbinamento ricco design luxury alpaca super con la roba lì calzini col mocassini i jeans sono cambiati infatti ce lo diranno camicia di jeans moccassini sesam no camicia di jeans scusatemi i jeans sempre quella gant ma io li voglio bello il cappotto cappotto jerry weaver bella sciarpa mi piace la sciarpa filato setasori big lana grossa ho molti anni 80 anche il trucco i capelli sono un po' mi ricordano flash dance abbiamo uno scaldaspalle quindi una mezza cappa uno scaldacollo sceso non so come lo vogliamo chiamare questo accessorio è carino sempre un violino olividino filato tweed aze di rowan che scema ce l'ho scritto qua oh un tweed aze oh il kid silk aze io quando tocco il mio basco è una meraviglia devo sistemarlo un po' bellissima la camicia bellissima camicia e ce n'è andiamola a vedere il polso alto ma il colore è veramente bello 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 si sa tutte le mie camicie che fin hanno fatto oh oh no vabbè questo anche no stamattina ho visto mentre ero lì a Viterbo che stavo ero nella prima sosta mangereccia ero in vetrina guardavo fuori seduta comoda la minura ai piedi da me e guardavo chi passava ho visto tante di quei piedi in calzature che probabilmente sono anche costate tanto che uscivano sul davanti e cercavano di aggrapparsi a dove potevano per non scappare ma io non ci avrei ma manco due passi avrei tirato ma quanti novissi di piedi nudi la cosa meglio è stata una signora che aveva una cosa così aperta davanti un open toe aveva di tutto addosso firmato anche firmato anche già il ricovero secondo me e anche lei che aveva da questo open toe due dita calzate con una calza di pizzo o gambaletto mollo sapete quelli molli che cascano che li vedete effetto calzino brutto come il peccato la signora aveva anche neanche da dire è una ragazza la bellezza dell'asina che secondo me non era un complimento ma brutto tutto l'ensemble tutte le perché poi le cose si devono riconoscere quindi c'è un'esibizione a volte ma guarda te che sapore scomoda tutto pur di chissà dove l'ha visto chi gliel'ha consigliato questa cosa che sembra legno con questo sandalo e il calzino così forse fuori non lo so ma perché proprio lo trovo brutto in casa ce li metto sì come quando vado a letto d'inverno che i calzoni me li metto dentro i calzini che guai se si apre uno spiraglio questo è non si capisce se dietro è lungo o è corto vabbè è un davantino ho i guanti io li voglio fare voglio imparare a fare i guanti con le dita ma che non lavori con i giochi di ferie però mi devo comprare quelli piccolini più corti voglio imparare a maneggiare il gioco di ferie santa pace è possibile mai questo è un filato strano che l'abbiamo già visto di lang lame e lace lame no non l'avevamo visto perché vedo dei ciccioli bellissimo il colore mi piace tantissimo questo la punta è un po' così bello anche quello che c'è sotto ah Laura Biagiotti è bellissimo oh qui cosa abbiamo i dolce vita che non mi piacciono sono di legno guardate le scarpe ma anche no in casa diamo fastidio ai vicini io vabbè non c'ho nessuno sotto filato setassuri e qui abbiamo questi gilet con la appena appena chiusi è un po' cavallato carino l'effetto scaldacuore vedete che si sovrappongono carino ma buono ci abbiamo ancora mi finisco più oggi basta abbiamo finito poi quando tornano vediamo un po' quando che ce lo riporti eccolo qua ce lo ridanno ah che c'è il Natale guardate qua il colpino natalizio una bella una bella sciarpa molto vedete che esistono quei colori primaverili una bella giacca in panno chissà magari è cashmere bello tutto sto rosa sta barbie vabbè carine le palline carino il gilet bellina sta bimba che c'ha il tulle sotto bello questo colpino burda quando torni ce lo dici ma vabbè poi tornerà ce lo dice di qua il primo dicembre tra la la dal primo dicembre basta non c'è altro volete rivedere la copertina eccola qui ora vi carico subito che si spegne ciao vado a scaldarmi un po' di tè sarebbe ora di cena per me